In vista di Pasqua e Pasquetta, il Presidente delle Regioni Campania, Vincenzo De Luca, raccomanda a Comuni, Prefetture, Aziende e Concessionari di Trasporto di intensificare fino al 13 aprile i controlli presso caselli autostradali, stazioni ferroviarie, porte ed aeroporti, al fine di assicurare rigoroso rispetto delle disposizioni in vigore, in particolare il divieto di spostamento da un comune all'altro valido a livello nazionale. In caso di trasgressione andranno applicate le sanzioni statali, multa da 400 a 3.000 euro e la quarantena per 14 giorni prevista dall'ordinanza regionale in vigore. Il Governatore ha inviato in proposito una lettera a tutte le istituzioni ed aziende competenti. Il Governatore della Campania intanto ha anche annunciato interventi nel sociale, con un ulteriore straordinario sforzo nel reperimento di risorse, il Fondo per il Piano Socioeconomico della Regione Campania è stato portato a 900 milioni di euro. L'incremento di altri 300 milioni in aggiunta ai 600 già stanziati consentirà di aumentare tutte le pensioni al minimo e gli assegni sociali. Intanto si sta completando il lavoro per la definizione della platea dei beneficiari di tutte le misure di sostegno previste dal Piano della Regione e per l'attivazione della piattaforma informatica che consentirà di accedere alle stesse, spiega il Governatore. Inoltre, a conclusione di un lungo lavoro cominciato nei mesi scorsi, si è concluso l'Iter per un'altra misura straordinaria di sostegno alle imprese, con l'operazione finanziaria dei mini bond garantiti dalla Società della Regione Sviluppo Campania. Un'operazione di sostegno al credito importante, conclude, che va a integrare il Piano Socioeconomico della Campania e che sarà utilissima nei prossimi mesi. Ed intanto il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato un'ordinanza con la quale viene stabilita la chiusura di tutte le attività commerciali nei giorni di Pasqua, domenica 12 aprile, e del lunedì in Albis 13 aprile. Sono incluse nel divieto le rivendite di generi alimentari, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie per i distributori di carburante. La decisione è stata presa alla luce della disomogeneità delle prescrizioni vigenti, che si legge nell'ordinanza comporta il serio rischio di alimentare incontrollati spostamenti intercomunali, in particolare dai comuni interessati da divieti verso i comuni vicini, nei quali è permessa l'apertura delle attività commerciali a Pasqua e Pasquetta, con conseguente vanificazione delle stringenti misure poste sinora in campo per arginare la diffusione della pandemia. Inoltre, l'eventuale massivo incontrollato afflusso di persone, sia presso le strutture di vendita, sia per le strade, rappresenterebbe un problema in giornate nelle quali tutte le forze dell'ordine e gli organismi deputati al controllo saranno già impegnati in una massiccia attività di presidio lungo le arterie d'ingresso uscita delle città.